Lasciamo Hammerfest, perché fa troppo freddo, è freddo da morire, andiamo verso Kirkuna. Il paese si chiama Rippefjord, è subito davanti Hammerfest, come abbiamo detto ieri, stop, andiamo a dare in questa parte della città, abbiamo dormito, piccolo porto, picciolo per le varie. Qua stiamo al nostro solito posto di ieri. Oggi funziona, sembra molto meglio di ieri, ancora si attaccano subito, si attaccano subito i pesci. Ieri ne abbiamo regalato due pesci a due italiani e mi hanno detto adesso vado a prendere altri due per il pranzo e ne ha già preso uno. Qua c'è il ponte. Eccoci, che così non si vede. Ti zoomo, aspetta, aspetta. Bello. Sì, bellissimi. Eccolo, eccolo. Come non è grande, è grande. Eccolo. Carla infila i pesci. Abbiamo pescato un'ora. Ecco. E in un'ora... Oh, mamma mia, non riesco a portarlo. In un'ora è, ecco, questa è pesca. Mostra quella più grande, mostra quella più grande. Ma è pesante. Mostra quella più grande tua. Questa. Questa qua. Tira la d'altra parte che si vede. Questo. Ecco. E ha, ha benissimo, sicuro, ha un chilo e un quarto almeno. Ecco. Oh, my God. Mai pesanti. Adesso bisogna pulirli. E trovare la gente, e trovare la gente a chi dobbiamo regalare. 10 kg di pesce. È arrivato il sole. Sono le 5 di pomeriggio. Abbiamo mangiato due grandi pesci per il pranzo. Adesso ci prepariamo ad andare avanti. Speriamo che stasera vedremo anche il sole di mezzanotte.